Abbiamo incontrato il preparatore atletico Fabrizio Tacchino, ora nello staff della Nazionale Italiana di Paratriatron, che in attesa di Parigi 2024 sta facendo incetta di medaglie. Siamo riduci dal campionato del mondo che si è gareggiato in Spagna e lì abbiamo avuto un successo, il primo della Nazionale Paralimpica per quanto riguarda il paratriatro, dove hanno vinto la coppia Tarantello-Visaggi sul tandem, hanno vinto il campionato del mondo. Quindi è stato un successo veramente inseguito tutto l'anno perché sono sempre state ridosso del podio, però la medaglia d'oro era alla portata, ma è stata un po' anche una sorpresa perché avevano le tedesche e le spagnole come favorite. Invece lì abbiamo fatto veramente un successo incredibile e questo ci fa ben sperare per le Paralimpiadi che ci saranno il prossimo anno a Parigi. E poi nello scorso fine settimana altre medaglie? Sì, questo fine settimana qua siamo stati ancora nuovamente in Spagna, anzi in Portogallo, ad Alhandra, dove hanno vinto il nostro capitano che riduce da due Olimpiadi con due medaglie, ha vinto la gara della sua categoria. Al secondo posto un altro atleta romele che ha fatto 15 secondi da Kenza, poi abbiamo avuto Valori in altra categoria, ha fatto medaglie di bronzo e poi abbiamo avuto ancora le ragazze che questa volta un po' rilassate dopo il mondiale hanno fatto medaglie di bronzo. Ricordiamo che la Nazionale di Parateliaton era stata qui nei nostri territori, è stata l'anno scorso. Sì, ho avuto il piacere con la collaborazione di tante persone qui sul territorio di portare la Nazionale a fare un lungo raduno di 15 giorni qui sulla Lovadese, dove abbiamo sfruttato un po' gli impianti del territorio e anche in modo particolare ci tengo a dirlo quello del Gerino, dove abbiamo utilizzato la piscina, abbiamo utilizzato il campo di atletica che adesso sarebbe anche bello riutilizzare in preparazione Parigi 2024 perché la pista come sappiamo tutti è stata rinnovata e si spera sempre anche nell'utilizzo dell'ostello e abbinato per la primavera anche l'utilizzo della piscina. Sarebbe la location perfetta perché a vista del CT questa zona qua si presta molto per questi ritiri. Comunque in vista di Parigi mi sembra che ci siano tutti i presupposti per fare bene. Sì, vincere medaglie non è mai facile ma ci proviamo. Io ho avuto già l'onore di fare tre Paralimpiade e di vincere in tutte e tre le edizioni sia di Pechino, Londra e Rio una medaglia e quindi ci voglio provare anche questa volta. Sarebbe un onore per i colori italiani.